Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video se siete stati attenti questa settimana, che era una settimana importante e non abbiamo fatto la giornata perché martedì c'era la Champions quindi uscire lunedì con un video del genere non l'avreste visto, mercoledì c'era il post partito e quindi questo video finiva nel dimenticatoio allora ho pensato oggi di fare questo video in anticipazione rispetto alla prossima giornata in modo tale da poter comunque fare un po' la collante ma prima come sempre io vi ricordo che questi video sono sponsorizzati ad fcmaglia.com che è un e-commerce che ti permette di comprare maglie e articoli sportivi a basso costo oggi vi presento la maglietta del mitico Robin sperando magari con la Juventus di vederlo quantomeno in panchina perché ci manca tanto anche alla luce dell'infortunio di Zappacosta tra l'altro su fcmaglia.com in vista della Black Friday c'è un'importante promozione trovate tutto in descrizione quindi se volete fare il regalo pensateci perché ci sono delle belle opportunità andando a noi invece la classifica di oggi ci racconta una Lazio, una Juventus, una Fiorentina a 21 punti una Roma a 22 l'Atalanta a 25 l'Inter a 28 Napoli e Milan a 32 spero di averli dati giusti perché li ho recitati a memoria l'ultima giornata ha accorciato un po' questa classifica non ci deve sorprendere l'avevamo detto l'avevamo ripetuto qualcuno non lo capiva io l'ho rispiegata non potevano non si poteva continuare a vincere tutte Milan e Napoli e quindi si sono riaperti un po' gli scenari io lo ripeto lo ridico fin quando non arriviamo all'ultima giornata la girone d'andata è difficile tirare una linea perché il calendario non è un calendario equilibrato non è un calendario bilanciato è un calendario in cui spesso e volentieri alcune squadre di testa hanno una serie di partite facili altre hanno una serie di partite impossibili in concomitanza quindi si creano dei divari che non hanno molto senso e la giornata per esempio questo weekend sarà importante perché racconterà tanto abbiamo due partite in particolare che andranno a incidere tanto sulla testa della classifica la prima è Napoli-Lazio o Lazio-Napoli no, Napoli-Lazio un Napoli che deve vincere perché deve comunque difendere la posizione ma un Napoli che ha perso Simene che effettivamente secondo me qualcosa ha fatto in questo inizio di stagione dall'altro canto una Lazio che sta deludendo sta giocando sotto le aspettative io cosa aspettarmi cosa preferire da tifoso atalantino non lo so perché da un lato la vittoria della sconfitta della sconfitta del Napoli ammesso non concesso che l'Atalanta ovviamente vinca con la Juventus accorcerebbe di parecchio le distanze o comunque non farebbe prendere largo al Napoli però forse preferirei prendere largo sulla Lazio quindi sulle squadre dietro in modo tale da andarvi a gestire la qualificazione a Champions con meno pretendenti poi siamo onesti anche vincendo e vincendo il Napoli quindi prendendo sette punti sulla Juve sul Napoli sulla Lazio queste squadre sono in grado di recuperarli non sto dicendo che è finita però tu incomincia a prendere sette punti di margine e poi ne parliamo capite che si possono fare tutt'altro ragionamento e ovviamente poi l'Atalanta deve vincere contro la Juve io non vado né con l'ottimismo un po' fiducioso di chi non valuta le cose né col pessimismo preventivo credo che l'Atalanta abbia le sue chance l'Atalanta deve fare una determinata partita non dipende tutto dall'Atalanta perché sono anche delle idee che se la Juve scende in campo con la giusta mentalità il giusto approccio diventa complicata però la Juventus che stiamo vedendo di recente non è una Juventus brillante è una Juventus che si può fronteggiare bisogna però stare al suo gioco ed non è un gioco particolarmente avvincente non è un gioco particolarmente entusiasmante ma è un gioco che porta a casa risultato alla fine come ha detto Sarri e quindi non mi aspetto una partita bellissima ma mi aspetto comunque un'Atalanta che cerchi in tutti i modi di sforzare e magari prendere vantaggio e poi imparare a gestirlo perché poi di fatto il problema di questa squadra è che abbiamo grandi difficoltà nella gestione penso avrà un importante rilievo anche il peso psicologico perché l'Atalanta non ha tutta questa pressione se vince una gran bella cosa se perde non cambia più di tanto quello che devi fare anche se la Juve ricupera tre punti te comunque dovevi vincere partite da qua alla fine diverso invece per la Juve perché vincere è importante perdere significa cominciare ad andare belli lontani nella zona Champions che per l'Atalanta è un obiettivo di un certo tipo per la Juventus è un obiettivo di un altro tipo quindi capite che ci sono anche pressioni differenti almeno questa è un po' l'intuizione che io posso avere vediamo quanto peseranno queste cose poi sul resto partite clamorose non ne ricordo mi pare che ci sia il Milan col Sassuolo che lì niente di che l'Inter con il Venezia siamo aperti a scenari rocamboleschi però sulla carta se hanno partite abbordabili forse una partita che può dare qualche sorpresa a Roma Torino perché il Torino è una squadra un po' imprevedibile ultimamente la Roma lo sbando però insomma sulla carta sembra una partita già indirizzata poi ovviamente ci sono anche tante altre partite soprattutto ho tralasciato tutto l'aspetto della fotoglassifica perché lo discutiamo nella giornata mi interessava fare un rapporto così un collegamento tra le due giornate voi magari nei commenti se siete interessati se avete voglia scrivetemi un po' cosa ne pensate che cosa aspettate la classifica oggi ci racconta che sette sorelle sono tornate in verità sono una in più perché ci sono un po' di punti a pari merito però tutto si sta ribilanciando rispetto a quella che era poi obiettivamente dai pronostici l'idea originaria c'è giusto la Juventus che è fuori dei giochi ma meno male quello si era preventivato quindi voi fatemi sapere che cosa vi aspettate che cosa sperate e magari quali sono secondo voi i risultati che possono essere più favorevoli per ovviamente l'Atalanta oppure per la vostra squadra se siete altri tifosi venite a vedere questo video che mi farebbe molto piacere io come al solito vi ringrazio tutti i riferimenti sono in descrizione e ci vediamo nel prossimo video ciao